Non so cosa sta succedendo in questo gioco abbiamo parlato con il dottore e non ho capito che cacchio doveva fare con questo dottore e abbiamo detto ciao adesso quindi teoricamente dovevo tornare indietro ero? perché io non ho capito nulla poi ho cambiato lo spear la lancia che avevo era molto buona però purtroppo quello che mi serve a me a me serve l'energia ma l'energia da veramente pochissimo 25 cioè per farmare qua non serve a niente la migliora purtroppo per ora è la spada a una mano questa è la migliore e ovviamente anche l'imperatore pax è buono però è pesante a me preferisco queste qua le spadine insomma Adesso non so cosa sta succedendo qua spero che non si scatenano contro di me Ma c'è ancora gente spero che non la fine po vabbè dai però che pagliacci madonna in un gioco non vorreste mai trovare questi tipo di droni veramente che sono i droni da vergogna sono che sono fatti male che succede qua amico fammi vedere un attimo i componenti che mi serve mi serve corazza braccio corpo ok io qua devo andare dai ho fatto giusto la strada fatto giusto e ritorniamo ancora una volta in produzione centrale biancora una volta mi spacco il grugno che non salti indietro ho quattromila e mezzo danno incredibile faccio la farmi ma dove minchia devo andare aspetta si vedi allora il path in cui dovevo andare sono stati tutti cambiati no sono quelli nuovi però vecchi giri eccolo dai punzecchiamo tutto che bello sono hanno cambiato personale eccolo qua il personale no arriva pure il robottino che punzecchia guardalo un po' di zecchiamo è tutto ho fatto male eh l'assorbimento più totale carazzo dovrei avercela cambia tutto buongiorno non mi interessa niente di te non è solo la compagnia non è solo la compagnia non è solo la compagnia anche questo è stato cambiato sono in due questa volta eh dove va? dove va? eh si a tradimento no? faceva il furbetto faceva un po' nell'angolo piégate a meta chissà di no eh vabbè non danno niente asti qua quelli vecchi Ok. Oh yeah, baby. Oh yeah, quello che ci serve. La spada ci serve, non quell'altra che non dà energia. Con l'energia possiamo direttamente curarci roba così. Invece senza energia. L'arma è abbastanza forte. Non serve a nulla. Ehm, Sally. Il nostro amico malaticcio qua è scomparso, è andato in cerchi di roba. Ok. Ha, è scomparso, infatti. Ti ho qualcosa che non lo faccio sério, ma va? È un messaggio. e se non lo ha muociamco i film e c'è sempre un po' la professione che si vengono cazzo poi pancia palmanci un terremoto per me ti chiuso un disegno testo inglese terminale non funziona più 08 il terminale che hanno qua la crio Grazie a tutti. Dobbiamo assolutamente far qualcosa. No, assolutamente devo fare qualcosa. Io intanto, cambiamo il coso. Io? Sì sì, il forum è giocativo. Sì. Sì. se vuoi che voglio, come si arriva? questo non mi piace mai. non c'è nessun modo. ma ora che la sicurezza, l'initore della città, l'initore della città, e l'initore della città. fabuloso. immaginare il mio entusiasmo. vedo. quali passi, sicurezza necessitare. e c'è solo un modicolistico Vabbè, io non ci credo. Non c'è accesso a alcun sistema ancora? Non davvero. La maggior parte delle elettrici sono fredda. Questo non è proprio mio campo. Nemmeno qualcuno che comprende... Si, non so praticamente se le sei inutile come ci fosse... Si nutre come dei... Le erbacce in un giardino, madonna, inutile proprio. Non sarà un'impresa facile. E quindi dovremmo tornare indietro, scommetto, perché vedo che c'è una besta lì davanti. Ovviamente per andare nel forum esecutivo dobbiamo passare per il quartiere generale della sicurezza. Ma giusto, perché non ci ho pensato prima, porca vacca? Perché non ci ho pensato prima, no? Per andare a un punto va nella tana del nemico, eh, giustamente. Ti faccio fuori. Dai, vieni qua. Dai, salta. Eh, scossetto, dai. Scossami il cammello da dietro. Toccamemi la mercanzia, toccami, dai. Che cazzo. No, madonna. Si ha tabbatto il gioco, non so perché. Wuhuuu! Bottarella di giorno. Sì, torno. Ma smetti di saltare indietro. Eh, se lo fa fastidio se salti indietro. Oho. Oho. Vediamo giù, va. Ho già sentito un co... Ecco, ho già sentito... Ho sentito un coso brutto, eh. Ecco il ninja, Naruto. Sminchiato all'istante. Eh dai! Dove è sbucato quello? Madonna! Tata! Morto come una donna! Oho, no, devo andare di qua. Oho! 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 E devo perdere tempo E devo perdere tempo Mentito e non posso tornare indietro Perché ormai Come si è aperto il funcello Non torno indietro vado avanti Tanto dopo quando Eppa Spade e scudo hanno Questo è nel livello 4 Ma Questo deve Mi è arrivato addosso un ragno Ok Dove è sbucato Ah il ragno che mi è andato addosso È andato giù del fosso Madonna come godo Godo come un suino È andato giù Che schifoso Sta bene Non è andato giù forum esecutivo non dovrebbe scomparire Irina finchè non raggiungeremo un certo punto nuova zona nuovi mostri eccolo 9 si ma ditemi che posso cadere di qua porca vaca non mi dicono niente eh ciao 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 i knew you'd make it i knew it warren i didn't doubt you for a second the executive forum should be just around the corner please be careful you're so close now first of all it's crucial that you can move freely or you won't go far you'll need some kind of authorization a code or maybe a borrowed identity our primary goal should be to check on the board and please don't take any unnecessary risks ma ti pare che tutto il giro che ho fatto fino adesso finisco male? tutto quello che ho passato no where can i find the board where do you think? in the board room did you really need to ask that? what can you tell me about this sector? i always found it exciting the hub of Creo decisions made here affect the world and we can find help here warren i know it so where are you? you said you're stuck in management i'm here when you break the lockdown all the doors should open i'll meet you in the boardroom once you've taken down the fire wall we'll finally be able to put an end to this nightmare mmm i better get going be safe è abbastanza losca sta tizia è abbastanza losca beh vedremo cosa succederà nel prossimo episodio i